Soluzioni pannello 2 3, 6, 8, 9 Lettere scritte esclusivamente con tratti curvi C, O, S, U Persezione viso spaziale Soluzioni Nella prima immagine le trottole sono 28 Nella seconda immagine le trottole sono 27 Nella seconda fotografia è stata aggiunta una piccolissima trottola in cima alla trottola più grande Ragionamento logico Soluzione La torta pesa 4 kg